Una piccola e semplice cerimonia per dare l'ultimo saluto alla bimba di tre anni e mezzo uccisa barbaramente dal padre lo scorso 21 aprile nell'appartamento di Via Togliatti a Levane dove viveva la famiglia. Il funerale della piccola è stato celebrato mercoledì mattina nel cimitero di Bucine che al suo interno ospita un'area riservata alle persone di fede islamica. Alla tumulazione della bimba erano presenti la madre, il fratellino, alcuni conoscenti della famiglia ed un assessore del comune di Bucine in rappresentanza di tutta la comunità. Il padre, Bilal Mia, ancora si trova nell'ospedale fiorentino dove era stato ricoverato successivamente all'arresto perché stato di forte alterazione. Dopo l'omicidio l'uomo si è chiuso in un silenzio totale, non una parola nemmeno con gli inquirenti, sembrerebbe inoltre non ricordare niente della drammatica vicenda. L'omicidio si era consumato lo scorso 21 aprile. Il padre, operaio 39enne, originario del Bangladesh, attorno a mezzogiorno in preda ad un raptus di follia aveva impugnato un coltello simile ad una roncola ed aveva aggredito entrambi i figli mentre la moglie era fuori a fare la spesa. Il primo genito di appena 12 anni era riuscito a salvarsi rifugiandosi dai vicini mentre la bimba era stata ferita a morte. Adesso la moglie e il figlio dell'uomo si trovano in una casa famiglia valdarnese dove sono seguiti dai servizi sociali. Hanno espresso la volontà di restare in Valdarno dove erano arrivati appena un anno fa. Il comune di Bucine starà così loro vicino come ha fatto dal momento della tragedia, facendosi anche carico delle esequie della piccola.